ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono miticotto benvenuto nello speciale 50 iscritti dove può sembrare una roba da poco portare un brullare a 750 però fidatevi che ieri sera ci ho fatto 100 coppie su una mappa scelta dalla community di football sono riuscito a fare ero arrivato a 747 come ora stavo registrando però poi l'ho persa di nuovo tutte sono ritornato 707 ci manca una vittoria sarebbe il mio primo brullare a 750 io volevo portare colt però hanno nerfato il gadget quello sta rompì ok due stecca è buono è Sì, non è vero. Tranquillo e mi hanno sgamato No 56 di vita Mamma mia con lo stick è fortissimo E sono morto Dunque ora il dedo tricolto non fa più il danno di 6 progetti Non fa solo il danno di 2 progetti No Ragazzi siamo quasi Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ragazzi 7.50 ce l'abbiamo fatta Quanto è bello vedere Il tuo brawler al grado green Vabbè al grado 25 Ecco qui La bellezza del grado 25 Poi sempre con quella mappa di football Stamattina Non stamattina scusate Ieri sera sempre Ho formato un po' di coppia con il primo e con Edgar Cioè lì all'inizio era facilissimo vencere Poi È stata una roba quasi impossibile Spero che il video speciale vi sia piaciuto Ricordatevi di lasciare like al video Iscrivervi al canale Commentare e condividere il video con tutti Alla prossima Ciao